11.05 puntuale come come i pendolari che aspettano i treni come le lamentele dei pendolari che aspettano i treni di trenord siamo qua nuovamente non ce l'ho minimamente con trenord assolutamente allora dicevo ricominciamo 11.05 puntuali ricominciamo tutti i posti di combattimento e ricominciamo per la seconda e ultima parte in questo mobilitas dedicato a comunicazione partecipazione e apriamo i lavori con carlotta bonvicini laureata in architettura all'università di ferrara svolge un master di secondo livello presso il politecnico di milano in police maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile esperienze di studio formazione docenza in università istituti italiani e esteri è iscritta all'ordine degli architetti di milano come pianificatore territoriale ha svolto attività professionale e consulenza per la redazione di relazioni paesaggistiche studi di impatto ambientale di supervisione tecnica project management e consulenza per le attività di pianificazione urbana e i trasporti per enti locali e studi architetture italiane e internazionali quello che non dice la sua biografia è che anche assessora alla mobilità urbana e verde del comune di reggio emilia buongiorno assessora buon vicino buongiorno ciao paolo tutto bene tutto bene tutto bene grazie ottimo di cosa parliamo di reggio emilia ma guarda io sono al di là del tema della della di questa seconda parte sono molto legata anche ai discorsi che abbiamo che abbiamo trattato fino adesso quindi anzi tra l'altro ci tengo a salutare sia la collega frisoni che comunque ho avuto il piacere di di scambiare diverse opinioni in questo periodo di pandemia quindi nell'ultimo anno e anche il professor musco che ha collaborato con reggio infatti l'ha citata anche nel suo intervento che infatti a cui di cui darò evidenza anche un po nella mia presentazione ottimo quindi abbiamo delle slide mi sembra di capire abbiamo delle slide adesso le condivido eccole qua eccole qua corsie ciclabili parliamo di corsie ciclabili ma nel senso che volevo partire un po da quello che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo quindi di fatto da quest'estate e quest'autunno per contestualizzare un po quelli che sono stati gli interventi quelli che saranno sono quelli su cui stiamo lavorando adesso quindi diciamo che come un po tutte le città abbiamo cercato di sfruttare le le novità introdotte anche dal codice per realizzare le corsie ciclabili in ambito urbano abbiamo cercato di introdurre tutti questi nuovi concetti quindi di fatto anche la casa avanzata alle intersezioni su tutte cose di cui a mobilitas avete già ampiamente parlato però volevo condividere solo qualche immagine cercando appunto di introdurre un po appunto un nuovo concetto anche di la possibilità degli utenti di riappropriarsi della strada come spazio pubblico condiviso a questa a questa prima parte di interventi abbiamo cercato anche di associare una prima parte di campagna di comunicazione che in realtà non è ancora terminata nel senso che ci stiamo lavorando in queste settimane ma al tempo insomma eravamo in settembre quindi fase di riapertura anche delle scuole abbiamo cercato di coinvolgliare anche la nostra attenzione su quella che era la comunicazione per la mobilità sostenibile sul ritorno a scuola quindi sulla mobilità a casa a scuola che è tra l'altro un tema su cui l'amministrazione lavora molto bene da tantissimo tempo già dai primi anni 2000 che si è instaurata un'ottima rete con i mobility manager delle scuole quindi è stato avviato in questa città da tanto tempo il bici bus e il pedibus quindi che tra l'altro in queste settimane in questi mesi vorremmo provare a rilanciare e l'idea era quella di partire appunto sfruttando la ripartenza delle scuole dopo la pandemia per lavorare appunto su dando messaggi positivi in questo senso questa campagna che tu conosci molto bene e quindi abbiamo cercato di appunto tra l'altro mi piace molto anche anche il soggetto questi li abbiamo chiamati draghetti anche se inizialmente erano dinosauri e quindi non hanno genere non hanno etnia sono un messaggio universale che ci permettevano insomma di parlare un po' tutte tutte le lingue e quindi cercando di appunto di incentivare le famiglie e spingere le famiglie a portare i loro figli a scuola in bicicletta o a piedi a questa questa è stata una prima campagna di affissioni a cui non è seguita la seconda parte più legata ai gadget e l'oggettistica che vedete nel in basso a destra ma che verrà ripresa adesso in primavera quindi comunque è stata una prima fase di campagna di comunicazione che adesso verrà ripresa e soprattutto verrà sviluppata anche in un'ottica di dare sempre di più come dire anche istruzioni agli utenti della strada rispetto appunto alle novità introdotte all'interno del codice della strada questa è una richiesta che comunque ci è arrivata da parte dei cittadini anche da parte delle associazioni locali come FIA tutti in bici e con cui stiamo collaborando. Questo è un altro esempio di un intervento che abbiamo fatto sempre durante la per la riapertura diciamo per il post covid in cui abbiamo lavorato molto per cercare di soprattutto in centro storico di ridare spazio alle attività locali in questo preciso esempio siamo in pieno centro questo era un parcheggio di un quartiere storico che per l'occasione abbiamo temporaneamente in realtà è ancora così l'idea era quella appunto di liberarla per la riapertura delle scuole l'edificio che vedete dietro agli alberi è una scuola secondaria e l'idea era quello di ridare lo spazio anche per l'accesso alla scuola visto anche che erano stati divisi gli accessi per il distanziamento fisico. E questa è una prima parte di intervento che è stata realizzata assieme agli abitanti del quartiere che ha un po' l'ambizione di continuare nei prossimi mesi visto che si torna nella bella stagione e lavorare anche sulla seconda parte della piazza e in generale sull'accessibilità di tutto il quartiere rispetto ai temi appunto di mobilità sui centri storici che insomma di cui si è parlato anche negli interventi precedenti. Questo per dire che in realtà stiamo cercando appunto di sfruttare quello che la pandemia di buono può averci dato cioè quello di lavorare sul tema dello spazio pubblico. Sulla ciclabilità in generale diciamo che noi ci troviamo, io mi sono trovata un'ottima eredità nel senso che Reggio Emilia è stata una delle prime città nel 2008 a dotarsi di un bici plan vero e proprio e quindi che ha costruito una rete ciclabile molto importante perché parliamo di più di 250 chilometri di piste. Quindi ora la vera domanda è cosa possiamo fare oggi, su cosa possiamo lavorare per rilanciare comunque la ciclabilità e di fatto rilanciare anche il bici plan che comunque era da aggiornare. Abbiamo deciso di provare a lavorare sul concetto di ciclabilità integrale quindi abbiamo ripreso il vecchio piano, lo stiamo aggiornando nel senso che magari molte delle previsioni che non erano ancora state attuate necessitavano di essere riviste, l'obiettivo però è quello di cercare di completare il più possibile la rete, lavorare sulla manutenzione dell'esistente, assolutamente un tema molto importante e sui servizi e la ciclabilità, su questo infatti mi è piaciuto molto l'intervento di Gabriele prima di me, anche il tema della sosta ciclabile e in generale dei servizi a 360 gradi e la ciclabilità sicuramente sarà una parte integrante del nuovo piano appunto del bici plan 2021 su cui stiamo lavorando. Ovviamente a questo si accostano tutti gli interventi di cui vi ho parlato prima, su cui abbiamo lavorato quest'estate, sulle corsie e ovviamente anche sul tema della sicurezza stradale quindi stiamo pensando di elaborare un piano velox, l'ho chiamato così in questo momento anche se è per ora soltanto un'idea ma di provare appunto a lavorare sul concetto di quella che dovrebbe essere la città 30 e quindi appoggiarci a questa nuova possibilità che ci viene data delle modifiche al codice e provare a introdurre degli strumenti di controllo della velocità anche in ambito urbano e quindi ci vengono in aiuto nel momento in cui vogliamo effettivamente raccontare ai nostri cittadini che stare in strada in bicicletta è sicuro e quindi tutti questi elementi vanno a comporre un po' quello che voleva essere il nuovo approccio per il rilancio della ciclabilità a Reggio che è una città ciclabile e che però diciamo forse ha bisogno di rilanciare, rinnovare un po' tutto ciò che è stato fatto fino adesso visto che comunque i tempi sono cambiati. Tutto ciò che vi ho detto fino adesso però si va poi a inserire nei discorsi che sono stati già ampiamente affrontati Mobilitas e in generale di cui tutti noi parliamo, abbiamo parlato negli ultimi mesi che si riesce veramente a pensare all'idea di avere una città dei 15 minuti anche in città che non sono Parigi, questo è il caso di Parigi chiaramente l'idea di Didalgo di lavorare su questo tema che non è Milano ma che ha una densità diversa l'idea è proprio quella di provare a lavorare quartiere per quartiere a 360 gradi non solo sulla mobilità ma su tutto ciò che è servizio al cittadino che siano gli spazi verdi, che siano le attività e i servizi di quartiere e quindi questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dato per i prossimi anni in questo senso infatti diciamo che possiamo affidarci a quelli che sono stati gli studi e i progetti che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni tra questi l'autunno scorso abbiamo approvato le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici documento che deriva da un'analisi molto dettagliata che è stata fatta all'interno di un progetto europeo in cui appunto il dipartimento di cui il professor Musco è a capo dello UF di Venezia ha elaborato appunto un'analisi molto dettagliata per questo progetto europeo appunto che si chiama un progetto Life Urban Proof che ci ha permesso di avere una conoscenza molto approfondita di quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio da un punto di vista delle isole di calore, del rischio idrogeologico con un'analisi molto puntuale di quelle che sono state le precipitazioni sul nostro territorio dagli anni 70 con una proiezione anche futura che di fatto poi sono diventate la base per tutti i progetti su cui stiamo lavorando e su cui lavoreremo quindi base analitica per la redazione del nuovo piano urbanistico generale è stato lo strumento che ci ha permesso di individuare le aree per il piano di forestazione urbana è anche uno strumento che ci sta aiutando nell'elaborazione degli obiettivi dei nuovi progetti europei su cui stiamo lavorando che seguono ovviamente l'agenda 2030 questo è soltanto un'immagine esplicativa solo per farvi vedere un esempio di output di quello studio questo era uno studio sulle isole di calore, secondo me è molto interessante chiaramente per chi non conosce la nostra città in ogni caso immagino tutti sappiate che siamo attraversati dalla via Emilia, quindi si vede è molto chiaro come le aree più rosse sono quelle più densamente abitate e urbanizzate quindi l'area più critica sicuramente è quella del centro storico e le zone industriali e chiaramente c'è il tracciamento di quello che è la via Emilia con i suoi sviluppi attorno e questo appunto dicevo per concludere era un po' la base su cui io credo debba essere è fondamentale per la redazione di qualsiasi piano che in qualche modo ci aiuta a tenere insieme tutti i concetti di sostenibilità ambientale che appunto vede sia il tema del verde vede l'adattamento ai cambiamenti climatici e chiaramente la mobilità Direi perfetto, sul fronte appunto della partecipazione pubblica? In realtà la Reggio Emilia da questo punto di vista è molto avanti, nel senso che ha lavorato tantissimo sulla partecipazione dei quartieri anche immaginandosi e studiando nuovi strumenti per la partecipazione che sono i laboratori di cittadinanza tra l'altro, vabbè non è chiaramente una mia delega però effettivamente in questa fase di redazione di progetti europei che necessitano obbligatoriamente anche di un confronto con la città sono diventati lo strumento anche per i servizi con cui lavoro io per coinvolgere i cittadini anche ad esempio sui temi della forestazione che in questo momento è un'idea, un concetto che piace tantissimo alla città e ai cittadini, per esempio in Emilia Romagna la Regione ha dato questa possibilità agli abitanti di andare gratuitamente nei vivai che erano stati designati dalla Regione a ritirare delle piante appunto in modo gratuito da poter mettere nel loro giardino, è vero che non tutti hanno la possibilità di avere degli spazi in cui mettere a dimora queste piante, tantissime sono state le richieste da parte di abitanti di quartieri con appunto con aree verdi comuni per chiedere di poterli mettere a dimora nei parchi pubblici, quindi adesso stiamo cercando di elaborare uno strumento proprio che ci permetta di fare accordi anche per la cura, poi è la manutenzione e il mantenimento degli alberi che vengono messi a dimora perché è molto bello mettere a dimora nuovi alberi ma poi bisogna prendersene cura e in questo senso la partecipazione e la collaborazione con i cittadini è fondamentale anche perché in realtà sono tanti quelli che ci chiedono di poter essere parte attiva poi nella gestione anche del verde della città, quindi in questo senso la collaborazione anche tra servizi e politiche diverse è fondamentale. Certo, ecco settimana, no non è vero, ormai il 3 febbraio, il primo giorno in Mobilitas, la sua omologa di Parma, Tiziana Benassi, assessora mobilitaria del comune di Parma ha lanciato questa suggestione, peccato mi sono dimenticato di chiedere alla Frisone, ma dell'idea della realizzazione di una ciclovia Emilia, visto che voi siete i vicini di casa e che oltretutto avete fatto un ottimo lavoro sul tema della ciclabilizzazione della via Emilia, com'è il sentimento? Sono assolutamente d'accordo, anzi credo potrebbe essere veramente il il progetto di punta per la nostra regione, anche magari attraverso i fondi del recovery fund, perché no? Sposo in pieno, assolutamente. Invece sull'idea di un bike manager nazionale? Sull'idea di un bike manager nazionale? Sì, sicuramente sarebbe importante, ma forse poi è importante distribuire capillarmente sui territori qualcuno che si faccia carico invece della gestione di questi temi, lo vedo a livello locale, è un tema che come comune ci viene richiesto e per l'amministrazione comunque ha un ruolo impegnativo, quindi un sostegno anche alle amministrazioni locali con una struttura ben organizzata credo sarebbe indubbiamente importante. Benissimo, ecco domanda di rito anche per lei Assessora, se avesse la possibilità di mettere la firma su un decreto, insomma che fosse grazie a quella firma esecutiva dal giorno successivo. Che contenuti avrebbe questo decreto? Ma guarda, ci ho pensato a lungo, di solito si chiedono appunto fondi o soldi per grandi opere, ma per quanto io credo che la mobilità sostenibile e in generale la ciclabilità e il trasporto pubblico avrebbero un grande bisogno di un completo ripensamento anche infrastrutturale per competere con l'auto privata e con tutti quelli che poi sono stati gli investimenti fatti fino adesso in grandi opere stradali e quindi qua comunque mi associo con la visione appunto della mia omologa di Parma. Io voglio provare a dare un altro spunto, proprio pensando a quello che l'ha citato anche prima Gabriele, sul mercato privato si è provato a dare, a incentivare il rinnovamento del patrimonio edilizio con i 110, l'ecobonus, il smabonus e tutto quello che ne consegue, allo stesso modo mi piacerebbe che provassimo a fare uguale anche sullo spazio pubblico, sulle infrastrutture, magari anche col coraggio di disfare e rifare, nel senso che io ci penso da quando è crollato il Ponte Morandi, siamo un paese che oggi deve fare i conti con un patrimonio immobiliare, infrastrutturale e verde che di fatto è esploso nel dopoguerra e poi con tutto quello che ne è conseguito nei decenni successivi, quindi penso alle periferie dormitorio degli anni 90 o 2000. Credo che quello di cui l'Italia e in generale le città italiane, magari soprattutto medie come la mia, parlo di ciò che conosco, hanno bisogno oggi sia forse un nuovo approccio proprio anche alla gestione dell'esistente, la gestione dello spazio pubblico, magari attraverso un fondo per la cura dello spazio pubblico, in cui all'interno del spazio pubblico faccio rientrare tutto ciò che è lo spazio fisico aperto delle città, quindi anche e soprattutto le strade ovviamente, ma non so, città come la nostra sono cresciute con gli oneri di urbanizzazione, oggi questi sono spazi pubblici, strade, aree verdi che sono in carico all'amministrazione, spazi che però necessitano di una continua manutenzione, quindi io vedrei proprio un sistema a due livelli, uno un ripensamento completo delle infrastrutture obsolete e vedo quello che ha fatto Rimini che è un lavoro incredibile con il parco del mare, ha completamente ribaltato la concezione del fronte sul mare andando a rivedere quelle che invece erano le logiche di costruzione degli anni 60 e invece un livello più legato al quotidiano in cui dare la possibilità, cercare di aumentare il mantenimento e la cura allo spazio pubblico e dare la possibilità di arrivare a uno standard più elevato a livello sia di comfort che di qualità dello spazio. Credo che le amministrazioni oggi avrebbero bisogno anche di questo. Chiarissimo. Grazie mille Carlotta Bonvicini per essere stata con noi, per aver presentato la best practice di Reggio Emilia e ci auguriamo che magari la prossima edizione di Mobilitas magari la faremo in presenza e caldeggio vivamente magari itinerante lungo quella che sarà la ciclovia Emilia, un sogno che mi permetto di buttare qua ma insomma chissà se riusciamo a concretizzare e raccogliere per l'anno.